ciao continuiamo ad aprire i pacchettini di g come giocare quali avrò oggi che dite questo c'è scritto fragile speriamo bene c'è dello scotch ma poco quindi si apre facilmente sulla scatola non c'è scritto il nome ma chi me l'ha dato saprà che è il suo adesso lo scopriremo anche noi allora stacchiamo capito perché fragile ci sono delle creazioni una b e una l vedete qua dietro c'ho b ed l di legno che stavano in un pacchettino non so se in un pacchettino che c'è stato lilla secondo me sì mi sa che venivano una cosa di lilla queste sono fatte in una massa credo che sia pasta di sale o pasta di mais o pane non lo so sa di pane chissà che cos'è ok tutti sglitterosi poi c'è un pozzettino che incartava tutto allora far asciugare all'aria se ci sono ancora dei punti morbidi no si è seccato tutto bene se puzza potete mettergli il profumo vedete voi non ha un odore cattivo quindi tutto a posto si è asciugato e non ha un cattivo odore ciao barbara rara e lele grazie per nominare anche lele 23 novembre g come giocare lele non partecipa tantissimi video perché in questa casa nessuno è obbligato a fare video quindi in questo momento non è molto concentrato nella nuova scuola perché sta facendo il liceo quindi ogni tanto appare fa qualcosina però insomma alle sue cose sui tempi e contento così però è carino quando lo salutate molto contento mi chiamo giulia sono una vostra grande fan ps non ha messo molto scoccio si vede grazie spero che i miei regali vi piacciono anche se sono tutti disegni vabbè io ve lo dico sempre non basta un disegno sono contenta così anche adoro molto gli unicorni e qui infatti quando aiutato il pacco avevo un corno di unicorno rosa ero anche con una mia amichetta lara vuoi essere amica assolutamente sì lo sapete e con la mia amichetta abbiamo cioè lei e sua madre hanno un canale youtube che si chiamano amichetti e io vengo chiamata giulia la ospite wow è bello essere ospiti in un canale di amici ci potete seguire dai o molte lol e ne ho 30 quasi contando lì le loro le pezze mi salutate lolina e quella svampita di alice assolutamente ti saluteremo ps se volete disegni colorateli voi viva il tipi team ma sono già colorati vedete che bella questa lolina è stupenda ciao cara no il centro commerciale no e guardate che cosa gli ha fatto la cassettina degli attrezzi quella sta in giro pure quella la cassettina degli attrezzi quella che lolina gli ha regalato per fare si fare tutti i lavori no cioè lei ha fatto il regalo a lui ma poi lui deve lavorare per lei una furbacchiona poi ci sta il selfie con babù che è bellissimo che è stupendo se non la video sai fare queste cose poi c'è ecco quelli da colorare i loghi quanto li hai fatti bene allora ecco le cose sono molto orgogliosa di questi loghi perché questi li ho disegnati io le grafiche me le ha fatte giulia ma invece questi li ho fatti io quindi sia il fiorellino che questa bustina e grazie mi piace un sacco veramente bellissimo e poi qui no vabbè c'è stella che sta ambendo a un pezzo di pizza è mia è mia la pizza c'è un bracciolettino che carino grazie un bracciolettino di quelli di macarame poi c'è mia con alice il team più forte dell'universo cioè il nostro ragazzi entrati nel tb team e quindi iscrivetevi ai miei canali e poi per lele c'è un piccacino che sonnecchia ragazzi che fa l'occhiolino che carino che bellino e bellissimo ok abbiamo ancora un po di tempo quindi che altro ci possiamo aprire magari c'è qualcuno che sta vedendo il suo pacchetto fa quello 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 sapete che quando ero all'evento di sbapamma abbiamo fatto una specie di tombola tipo con i numeretti e regalavano delle magliettine e c'è stata una bimba che è uscito il numero 6 e c'era una ragazzina che era convinta di aver vinto ma aveva il 9 quindi ci è rimasta un pochino male e dopo un po invece è uscito pure il suo numero quindi ha vinto pure lei sono molto contenta di questo e poi c'era anche una bambina che non posso assolutamente dimenticarmela perché urlava 32 e ha vinto anche lei per lara da auri auri sei lauri che penso io è aurorina che vediamo sempre in tutti gli eventi allora ci segue sempre è troppo carina troppo velocina e ha dei capelli stupendi sarà lei o sarà un altro auri sono due micropacchettini con è un ah è fatto con gli lastichetti con una tecnica fichissima e poi che altro c'è che bello allora ha ritagliato il fammi con il nostro fiorellino ciao barbara ciao l'ora sono aurora penso che vi ricordiate di me sono venuta a like a lol ag come giocare sono di nuovo in questa bellissima viera sì abbiamo indomini sì eri tu auri quindi sì mi ricordo benissimo di te e tu per me sarai sempre la bimba che l'altro anno agì come giocare sarà attaccata allo slag mai capelli quindi io mi ricorderò per sempre di te perché a lei ha i capelli lunghi 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 tanti 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 vi voglio un sacco di bene adoro i vostri video vi voglio bene spero vi piacciono i regali sempre cucciolina e questo è l'olino tra l'altro mi capitano un sacco delle foto che ho fatto a like a lol ci sono un sacco di foto con te che bello io non vi pubblico tutti quanti per privacy infatti quando vi metto condivido delle vostre foto io metto sempre gli occhialini vi copro sempre perché penso sia giusto così però ho tante foto in cui siete tu e Lara insieme sono bellissime oh che bello ci sono degli orecchini ma che carini di Tully Whale che tra l'altro è un negozio che mi piace da morire adesso ve lo giro così lo vedete ma non sono bellissimi sono due palline di vetro tipo palline di Natale sembrano con i glitter dentro no nel prossimo video me li metto sono troppo carini ma che belli grazie Auri grazie a tutti quanti gli altri che hanno guardato questo video grazie a tutti quelli che hanno partecipato me li metto adesso grazie a tutti quelli che hanno partecipato oggi come giocare che si sono venuti a divertire insieme a noi e ci saranno tanti altri eventi quindi io ve lo dico sempre quando volete controllate i miei social mi trovate sia su Facebook perché Babu Barbara D'Alessandro e li scrivo tutti quanti gli eventi che ci sono e anche su specialmente su Instagram perché metto le storie ci metto un secondo a farlo e quindi avviso anche lì e quindi potete sapere quando e dove trovarci dove possiamo incontrarci io mi metto gli orecchini basta faccio ormai così vedete come stanno non ci vedo ora che carini che sono sono bellissimi grazie Auri grazie a tutti quanti gli altri che hanno mandato i pacchettini se vedete il vostro pacchetto qui dietro vuol dire che lo sto per aprire ma ce ne sono anche altri qui sotto e altri di lato e altri lì davanti sono piena 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 quindi ci vediamo al prossimo video un bacio a tutti quanti ciao un bacio a tutti